Cari fratelli e care sorelle in ascolto, buona giornata e buona domenica. Vogliamo iniziare questo momento di culto invocando il nome del Signore. Il nostro principio è nel Signore che è presente fra noi, che ci convoca e che ci unisce. Amen. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia. Ha reso sicuri i miei passi. Egli mi ha messo nella bocca un cantico nuovo all'ode del nostro Dio. Preghiamo. Dio nostro esultiamo alla tua presenza perché i tuoi benefici in nostro favore sono davvero innumerevoli. Non potremo mai descriverli in modo adeguato. Eppure tu ci affidi i tuoi talenti proprio perché raccontiamo le tue opere meravigliose e mediante il sostegno del tuo spirito proclamiamo la tua salvezza. Il soccorso che ci hai donato in Cristo. Tutto quello che tu compi, sufficita fiducia, ci libera e ci aiuta ad affrontare difficoltà e problemi che a noi sembrano insolubili. Per questo ti odiamo e veniamo a te. Che ci incontri nella tua parola. Ame. e veniamo a te. Che ci incontri nella tua parola. Ame. di soltanto. In alto stabili il tuo giudizio vero. Tu mi sorveggio d'ora, riparo a trovo in te, con la tua mangiore mi salvedai ancora. Tu mi dici il giusto che sboccia come un fiore, il oneroso Signore verso il tuo trono augusto. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 13 i versetti da 44 a 46. Gesù disse il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di grande valore se ne è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Questa similitudine del tesoro nascosto e della perla preziosa è certamente una similitudine davvero molto conosciuta. Un testo importante che ci vuole veicolare un messaggio fondamentale. La vera saggezza è capace di trovare un tesoro nascosto e il regno di Dio è un tesoro nascosto. Non è facile trovare un tesoro nascosto perché il tesoro nascosto non è appariscente e sappiamo bene che oggi come allora le cose appariscenti non sono sempre le cose più preziose. Anzi, possiamo dire che forse più appariscenti sono, meno preziose sono. Perché Gesù parla di un tesoro nascosto in un campo? Probabilmente l'Evangelista si rifà anche all'uso del tempo, certe volte, di seppellire una persona, una persona anche ricca, con una parte almeno dei suoi beni. Indubbiamente un tesoro nascosto in un campo è difficile da scoprire. Casomai quest'uomo stava arando il campo, ci è inciampato, avrà detto «Maledetta sta pietra che mi è capitata», poi però, preso dalla curiosità, ha scavato e si è accorto che si trattava di un tesoro. Anche oggi è difficile scoprire il regno di Dio perché tante contraddizioni della società non lo manifestano. Dov'è Dio se arrivano malattie come il coronavirus? Dov'è Dio se c'è ancora la guerra in questo mondo? Dov'è Dio se ci sono tante violenze? Queste sono contraddizioni del nostro mondo che non possono essere trascurate e che indubbiamente non fanno emergere il volto del regno di Dio. In più dobbiamo aggiungere che non di rado il comportamento dei cristiani non testimonia il regno di Dio. I cristiani che dovrebbero essere i primi testimoni, cioè noi credenti, i primi testimoni di questo regno, purtroppo tante volte veniamo meno a questo nostro compito così importante. Ma c'è ancora un'altra motivazione. Il regno di Dio va contro la mentalità di questo mondo perché non promette prestigio, non promette potenza, non promette successo e secondo la mentalità di questo mondo attira poco, interessa poco. Però è molto importante capire che il regno di Dio richiede caratteristiche particolari in chi lo sa valutare. Non tutti capiscono, ovviamente. Pensate un po' come è stato deriso quell'uomo che vende tutto per acquistare un terreno improduttivo. Quell'uomo sapeva che c'era un tesoro e che acquistando il terreno sarebbe entrato in possesso anche del tesoro. Ma per gli altri stava sprecando i suoi soldi. Questo però ci fa capire una cosa importante perché ogni parola qui ha il suo peso, in questo testo. Ci fa capire che se vogliamo davvero valorizzare il tesoro del regno dobbiamo essere disposti a vendere tutto cioè a mettere tutto in secondo piano rispetto a questo tesoro rispetto all'Evangelo di Gesù Cristo. Mettere cioè Dio al primo posto nella nostra vita. Il fatto di saper ben valutare le cose forse lo si capisce ancora maggiormente nella similitudine della perla preziosa. Il mercante comprende bene il valore di questa perla ed è disposto a vendere le altre perle che non erano sciarpame, non erano cose da gettare via, erano perle preziose anche loro ma meno preziose di quella perla. Qui il mercante ha dovuto fare una scelta non tra una cosa cattiva e una cosa buona, tra una cosa inutile e una cosa utile, ha dovuto fare una scelta tra cose buone, ha dovuto scegliere tra le perle e la perla, cioè quella lì che aveva un valore maggiore e ha scelto la perla che aveva un valore maggiore. A questo punto potremmo chiederci in cosa consiste questo tesoro, ne abbiamo già accennato. Quando Gesù parla col giovane ricco, gli dice vieni e seguimi, avrai un tesoro nel cielo. Il tesoro è il regno di Dio, ma il tesoro è la parola di Gesù, il tesoro è Gesù stesso. Si accoglie il regno di Dio accogliendo Gesù, diventando discepoli di Gesù. Ma cosa significa essere discepoli di Gesù? Essere discepoli di Gesù, qui lo comprendiamo, è innanzitutto una scelta fondamentale che comporta un impegno costante. Non si può essere cristiani a momenti, non possiamo essere cristiani solamente quando andiamo al culto o quando ci raccogliamo in preghiera o quando leggiamo la Bibbia. Noi dobbiamo essere cristiani, portare lo stile di vita cristiano in ogni istante della nostra vita, al lavoro, a scuola, nel rapporto col prossimo. Quando ci troviamo a fare delle scelte, è lì che deve venire fuori il nostro essere credente, il nostro essere cristiani. Essere discepoli di Gesù vuol dire anche saper valutare le cose davvero importanti, perché noi in questo mondo di oggi siamo di anzi ad un'infinità di cose appariscenti che forse possono sembrare anche importanti, ma in realtà non lo sono. Pensiamo a quello che dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi quando dice quello che per me era un guadagno l'ho considerato una perdita dinanzi alla conoscenza di Gesù. E queste cose che Paolo dice quello che per me era un guadagno era qualcosa di davvero importante nella propria vita. Paolo non è un delinquente Paolo è un ottimo fariseo, è un ottimo ebreo che però arriva alla conoscenza dell'Evangelo di Gesù Cristo e dice tutto quello che ero prima lo metto in secondo luogo dinanzi all'Evangelo di Gesù Cristo. domandiamoci se possiamo dire anche noi la stessa cosa, domandiamoci se Dio è al primo posto nella nostra vita perché vedete fratelli e sorelle in ascolto permettetemi questa piccola digressione mettere Dio al primo posto nella propria vita non vuol dire trascurare le altre cose perché qualcuno potrebbe dire ma la famiglia è importante ma il lavoro è importante ma il rapporto col prossimo è importante certo, anche il divertimento anche il riposo sono importanti però tu ti accorgerai che se metti Dio al primo posto nella vita cioè se tu cerchi di vivere pienamente l'Evangelo ti accorgi che tutte le altre realtà la famiglia, gli affetti, gli amici il lavoro, il rapporto col prossimo il divertimento, il riposo andranno ad occupare ognuno il posto che loro competerà se tu prendi un'altra di queste realtà qualunque essa sia e la metti al posto di Dio ti accorgerai che tutte le altre cose si scombineranno solo se metti Dio e il suo Evangelo al primo posto ti accorgerai che tutte le altre realtà arriveranno ad acquistare il posto che loro compete nella tua vita di credente essere discepoli di Gesù vuol dire anche testimoniare il regno di Dio anche in un mondo pieno di contraddizioni dobbiamo farlo e dobbiamo saper riconoscere i segni del regno fratelli e sorelle a volte questi segni del regno sono piccoli anzi generalmente sono così però ogni volta che riceviamo una buona azione ogni volta che possiamo ascoltare una buona parola ogni volta che riceviamo un gesto di solidarietà guardiamolo come un segno del regno di Dio e lasciatemi dire ogni volta che il Signore ci mette in grado di essere noi coloro che dicono una buona parola di essere noi coloro che fanno un gesto di amore di solidarietà, di amicizia ecco anche quelle volte noi abbiamo contribuito a dare un segno del regno di Dio un piccolo segno ma significativo del fatto che il regno di Dio è già iniziato ed è iniziato in Gesù Cristo e se noi vivremo in questo modo e lo faremo con amore annunzieremo al mondo che la vittoria finale sarà del bene e certamente non del male qui in questo testo viene posto l'accento anche sul ricevere direi soprattutto sul ricevere più che sul lasciare chi sceglie di seguire Gesù Cristo e chi lo fa davvero si rende conto che quello che sto per dire è vero riceve molto perché trasforma la propria vita trasforma il proprio rapporto con se stesso la vita acquista un senso nuovo la vita acquista uno scopo nuovo la si vive più convintamente e cambia pure il rapporto col prossimo il prossimo viene visto con occhi diversi non si comincia subito a valutare simpatico, antipatico, utile, non utile ma si guarda nel prossimo anche il destinatario dell'evangelizzazione il destinatario della nostra testimonianza anche il rapporto con Dio si rinnova Dio è visto in una luce nuova Dio non è più visto come il supplemento dei giorni di festa non è visto come il conforto a buon mercato nei momenti di stanchezza ma Dio viene visto come l'essenziale della nostra vita Dio viene visto come la nostra libertà la nostra pace e allora accogliamo fratelli e sorelle questa parola che il Signore ci rivolge questa parola che contiene un appello il tesoro del regno il tesoro della parola il tesoro di Gesù è messo dinanzi a noi non voltiamogli le spalle lasciamo che Gesù trasformi la nostra vita scopriremo in Lui il vero tesoro e lo dimostreremo anche con la nostra vita perché Gesù ha detto e lo dice ancora oggi a ciascuno di noi dove sarà il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore Amen Gesù ha detto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.